Bella a tutti ragazzi, sono Aron e come potete vedere questa volta siamo su Black Ops 3 Black Ops 3, eccolo qua, vi faccio subito vedere la classe Io uso un KN44 con Mirino Reflex, Calcio e Silenziatore Secondo me per adesso, con quello che ho sbloccato, è la classe migliore per come gioco io Poi uso Sesto Senso, Tracciante e Spericolato Allora, vediamo subito come giochiamo, ho fatto già qualche partitina, sono arrivato al tredicesimo livello E vediamo Eccoci qua, schermata di caricamento, siamo 6 contro 6 6 contro 6, abbiamo 3 macchine da guerra, schianto gravitazionale, 2 schianti gravitazionali e un purifier Non so se l'ho detto giusto, ma chi se ne fotte Eccoci qua allora, eccoci qua, partiamo, KN44 Mamma mia, mamma mia Si parte, si parte Devo dire ragazzi che sto Call of Duty Mi sta piacendo molto, mi sta piacendo molto, io poi sono fan della saga di Black Ops Quindi non potevo farmelo sfuggire questo titolo E vediamo un po' più avanti, quando sbloccheremo anche armi più forti, come si comporterà Vediamo, vediamo Attenzione che intanto siamo qua, nella base nemica forse Oh! Eh, cosa mi ha ucciso? Ah sì, era tipo una mina piazzata sul muro Adesso devo imparare anche tutti i nomi delle varie cose Sta laggando qua Callo di frame Attenzione qua, siamo nella piazzetta centrale Attenzione Qui ce n'è uno, l'ho visto Attenzione, eccolo lì No, no Ma dai, incominciamo con questi cazzo di fail Non ci posso credere Quello chi è? È morto, è morto Dai E questo qua, volevo ucciderli tutti, non lo so Orca vacca Siamo già 1-3 Una schifezza clamorosa Attenzione qua, amico E abbiamo preso Mamma mia Attenzione di là, ce n'è un altro Ricarichiamo l'arma Eccolo qui Pazzesco 3-3 Vabbè, uno di rato Niente di incredibile Per adesso Buttiamoci sott'acqua Attenzione che dobbiamo stare pronti Ok È cambiato il rispondi Mi sa, perché vanno tutti di qua Vanno tutti di qua E allora andiamo anche noi Intanto qui ci siamo Torniamo in 3 Torniamo indietro Eccolo lì Silenzio, silenzio ragazzi No Come on Ho c'ho dietro, ho c'ho dietro Eccolo lì Eh no, ma come ha fatto Ucciderci, dai Che eravamo lì Da mezz'ora Sta perdendo un macello Di frame Sto gioco Attenzione Ok Vediamo qua Nella bocca Dello squalo Tipo Attenzione Attenzio Oh, l'abbiamo preso Per fortuna Perché stavo perdendo L'arma Praticamente Troppo rinculo Anche se c'ho calcio Ma Sulle armi iniziali Attenzione qua Attenzione qua Da dove sbucano? Qui Non c'è nessuno No, è coperta la zona Dalle nostre due Ok The crazy Arriva da qua Andiamo Andiamo Compare Ok Lui si occupa Di quel punto lì Eh ma C'è solo noi qua Dove sono Ah ecco UAV Prendiamoci questo Allora Facciamo un po' Di bordello Così A caso Totalmente Sembra che c'è L'UAV Sopra di noi Ma qua Non dovrebbe esserci Nessuno Eccolo lì Silenzio Perfetto L'abbiamo preso Per fortuna Che mi sono abbassato Leggermente Che culo Che culo L'abbiamo preso L'abbiamo preso Mamma mia Attenzione qua Attenzione qua Quello chi è No è morto Sembrava uno Camperato lì Eccolo qui Mamma mia Ragazzi È da dietro È da dietro Ci hanno inculato Ci hanno inculato Soprattutto quando vado Nell'acqua C'è un calo Di frame clamoroso Passa da 60 Cos'è successo Ah Eh vabbè Abbiamo preso Per fortuna Al volo Tutto al volo Il punteggio Non è bellissimo Vabbè 1.50 Ci può stare Dai Qua c'è la bomba Qua Ho il tracciatore Quindi vedo Praticamente I passi dei nemici Attenzione qui Attenzione qui Camperone L'ho preso Ma mi ha ucciso Perché giustamente Se non si camper Deve mettersi tipo Una clamor O qualcosa del genere Giustamente Giustamente Eh no Un amico Un amico Buttiamoci sotto acqua Preso Preso Anche lui Attenzione Preso Perfetto Dai che stiamo facendo bene Per essere le prime partite Lui è un amico Lui è un amico Allora andiamo Torniamo Verso questa parte Perfetto Oh L'abbiamo ucciso Incredibile Eh ce l'abbiamo fatta Cazzarola Ci stava per uccidere Attenzione qua sotto Attenzione Tutto stealth Tutto stealth Dai andiamo Dai andiamo 63 64 Siamo lì Siamo lì Perfetto Attenzione Wavir Non abbiamo Fantasmo Quindi siamo Un po' Nella merda Come sempre Eh cazzo Ho usato Il cazzo Madonna Il perca Ho usato Porca vacca Eh niente Abbiamo perso Ragazzi Abbiamo perso Vediamo il punteggio Che abbiamo fatto 15 10 Noi 50 Non è mica male Per essere Una delle prime partite Che faccio Comunque Non è Male Non è male Ok ragazzi Ho fatto un video Veloce E niente Se il video vi è piaciuto Come sempre Vi lascio anche il nome Di Steam Il link Al mio account Steam Così se volete A giugno Mi giochiamo Anche insieme E niente E niente ragazzi E niente